Io non ci credo che ha rilasciato veramente Ste dichiarazioni Io non ci credo ragazzi Non ci credo Non ci credo No ma io non ci credo Cioè se veramente ha detto Sto trafiletto che stiamo leggendo Ragazzi ma per me è grave Per me è grave O è non voler accettare la realtà delle cose O non so che cosa Cioè che non vanno Ci arriviamo con calma Ciao ragazzi e ben ritrovi a tutti Allora vi chiediamo di supportare I nostri contenuti calcistici Semplicemente lasciando like Se ne volete tanti altri Oggi ne arriveranno una marea Arriverà la live reaction Arriverà il paggellone sfogo Arriverà de tutto e de più Vi chiediamo semplicemente di supportarci A prescindere se la Roma vince Se la Roma pareggia O se la Roma perde Come fate sempre Seguiteci e attivate le notifiche Cliccando sulla campanella Restate sempre aggiornati Su tutti i contenuti Di tutti i nostri canali youtube Ne abbiamo tre Due di calcio e un extra calcio Li trovate in descrizione Come sempre compariranno qua Durante il video C'è chi cerca di difendere L'indifendibile E non mi sto ancora Riferendo all'allenatore E credo però Che sia arrivato il momento Che qualcuno si prenda Effettivamente le sue responsabilità Sto parlando anche Lato Tifoseria Basta Scuse Basta Trovare Alibi Sì ma La tifoseria Non c'entra niente Perché se chi va in campo Deva fare queste figure De merda La tifoseria Può dire quello che gli pare Ma se non cambiano Gli atteggiamenti Fabio deve cambiare anche L'ambiente che ci circonda Secondo me Gli abbiamo buttato La peggio merda addosso Non è come dicevo Gli abbiamo buttato Gli buttiamo Quando è così La peggio merda Se la magnano Ma non cambia niente Perché tanto Ogni anno La surfa è sempre la stessa La colpa non è Del tifoso Perché ognuno ti fa Come cazzo Meglio crede Uno se vuole Se uno vuole Difendere Lo difendesse Ho capito quello che vuoi dire tu Se uno vuole difendere Perché non capisce Un cazzo di calcio Va benissimo Difendesse L'operato dell'allenatore Mettiamola su questo piano Perfetto Ma hai Cioè quello che stavo per dire io L'hai detto T'ho anticipato Benissimo Mettiamola su questo piano Ma non concentriamoci sul tifoso Perché ognuno ti fa Come gli pare Come cazzo gli pare Va benissimo Va benissimo Se qualcuno Deve prendersi Delle responsabilità Questi sono i calciatori Che vanno in campo Perché non è possibile Che passano gli anni Cambiano i giocatori Cambiano gli allenatori Cambiano i dirigenti Ma la sostanza Rimane sempre la stessa Se arriva ad un punto dell'anno Non cresce e non crepi Sistematicamente poi Succede sempre All'inizio della stagione Quando parti con le migliori premesse Nel giro di un mese e mezzo Due te smontano il giocattolo Che è una meraviglia Ricominci a smadonnare Come niente fosse Come l'anno precedente Come gli usi l'anno precedente Ricominci a smadonnare Allo stesso modo Dopo due mesi Della stagione nuova È sempre tutto uguale Possiamo dire Che siamo stufi? Io lo dico da quando tifo Roma Dal giorno in cui Ho cominciato a tifare Roma Due giorni dopo Già ero stufo Figuratevi No non può essere E quando ho cominciato a tifare La Roma Non era la Roma Degli ultimi anni Finali delle coppe europee Quando ho cominciato a tifare La Roma Era una squadra Che si classificava A metà classifica Quando ho cominciato io Quindi partiamo Da quel presupposto Sentite che cosa Io non ci ho avuto il coraggio Ho messo muto Nell'esatto momento In cui Juri ci ha cominciato a parlare Ho detto io non voglio ascoltare Ma è inutile Stare lavorando Ho detto poi Le rileggiamo Ma non pensavo Arrivasse a di una cosa del genere Per quanto esista La libertà di parola E ognuno C'ha le sue percezioni Sì sì Magari C'è una persona L'allenatore della Roma Che ha detto una cosa E c'è una tifoseria Qua veramente Oggi Penso che Siamo andati tutti Sulla stessa direzione O quasi Qualcuno ancora giustifica L'ingiustificabile Ma per il 99% Tutti dicono la stessa cosa Una prestazione Inguardabile E Juric ragazzi Ha detto A Sky Non ho visto confusione Fatte tante cose positive Entro nei meriti Più nel dettaglio Della dichiarazione La squadra ha fatto Tante cose positive Ha mosso bene la palla Ha mosso bene la palla Ma nel senso che Ognuno dei giocatori Si è preso la palla destra Se piava le mani Sulle palle Se le muoveva bene Da sinistra a destra E da destra a sinistra Quello che intendeva Io Perché se no Non capisco C'è da migliorare Sulle ripartenze Abbiamo preso Goll su un rigore così Ho visto tante occasioni Tanto gioco Abbiamo tirato tantissimo Ha detto Si si ma che hai tirato tantissimo Ma do cazzo hai tirato Sulle statistiche si Si ma dove hai tirato Hai fatto più dei 20 tiri Si ma Si ma al portiere Che pallone hai fatto Non c'è stato un tiro pericoloso Hai preso un palo Hai preso una traversa Basta Non hai fatto niente De concreto De pericoloso Non c'è nulla A volte le partite vanno così A noi non è neanche a volte A noi vanno sempre così Al 99,9% Non ho visto confusione E non ho visto una prestazione negativa Infatti Non hai fatto 18 cambi Per cercare di ripiare la partita Perché non c'era confusione in campo Era tutto perfettamente sotto controllo Sì sì certo I calciatori in campo correvano Eravano tutti messi in un certo contesto Cioè stavano se lì Abdull Come cazzo si chiama Su la stessa fascia No ma tutto a posto Tutto perfetto Aspetta che Mi si è No se no troppo Eccolo qua Mi si è sfaciolato Non ho visto confusione Non ho visto una prestazione negativa Nella copertura delle preventive Non siamo abbastanza Ah Il problema quindi è solo questo A larghi tratti abbiamo fatto benissimo Creando occasioni Iuri c'è risultato negativo Ma non butto via tutto Qua già corretto il tiro Ha fatto tutto bene Ma non butto via tutto Con l'ingresso di Dovbic Siamo riusciti ad alzare Il nostro raggio d'azione Abbiamo E che cazzo è cambiato Cioè qual è stato il risultato finale Che la partita alla fine L'hai perso Non l'hai segnato con Dovbic Non l'hai segnato senza Abbiamo avuto l'occasione Della traversa Con Ecco Con Pellegrini Ci sono cose da migliorare Negli ultimi metri E dobbiamo limitare le ripartenze Il risultato è negativo Ma non vogliamo buttare tutto La rosa si vedrà in futuro Quale futuro Ora dobbiamo concentrarci Sul Monza Abbiamo fatto passi in avanti Impressionanti oggi Sul livello del gioco Ma l'ha detto veramente L'ha detto davvero Cioè ha detto veramente Passi in avanti Impressionanti Sul livello del gioco Ma quale gioco Cioè ragazzi Io non ce voglio Allora E allora Mi faccio una domanda Se lui dice una cosa del genere Perché La sua idea di gioco Che ha in testa È sta merda qua Perché altrimenti Non ve lo spiego Cioè se la sua idea Che si è prefissato È quella di girappalla Da una parte all'altra Del campo Che prima che ci arrivi Ti fa 18 passaggi Perché c'era un quarto Dora prima che arrivi Da sinistra a destra E da destra a sinistra Per poi Far rintanare bene bene Tutti e gli unici giocatori Nel dare del ricordo avversario E non avere uno sbocco Allora Se è questo il gioco Che c'è in mente Stasera è fatta una prestazione Della donna Allora ok Così ve lo spiego Così ve lo posso anche spiegare Altrimenti Non trovo senso In quello che ha detto Iurice stasera Io Non dura tanto Sta situazione Non dura tanto Ragazzi Non dura tanto Perché Io non vedo Non ci vedo niente De positivo Onestamente parlando E vedevo di quello che penso Perché non No no Ma noi tifosi Noi tifosi Vedrai Dicevamo così L'anno scorso Dicevamo così Due anni fa Tre anni fa Era sempre Sì sì Sule non sente la pressione Si dà da fare A qualità E al secondo anno In Serie A In questo momento Magari non riesce a esprimere Tutto il talento che ha Ma in continuo contatto Con la palla E non si nasconde Con il tempo crescerà A fine campionato Quando riarrivi sesto Probabilmente Sesto Sette dice bene Eh Poi bisogna Vede in Europa Come no Non sente la pressione Ma ha fatto un anno A Frosinone E adesso è alla Roma E' quello il problema Bisogna essere E' quello il problema Sereni tranquilli Calmi E farlo crescere Sia fisicamente Sia nelle posizioni In campo Bisogna lavorare Ma sono molto fiducioso Su Sule Sule secondo me Stasera Non voglio dire Che è stato il peggiore Poi lo vedrete Nel paggio Lo vedremo Ma c'ha sempre Sto vizio Di merda Che ogni volta Che gli arriva a palla Se non la tocca Quattro volte Non è contento Per poi Non concludere nulla Perché da tempo Agli avversari Dei pressarlo E di fargli Perde palla Mi dispiace dirlo Ma per quello Che abbiamo visto Finora Sule sente la pressione Sente la pressione Di una piazza importante Sente la pressione Anche di Dybala Che gli si è rimesso Davanti Nelle gerarchie Esatto Perché fino a che Deve per forza Dimostrare qualcosa Ragazzi è così Ragazzi è così Poi quello che succederà Domani dopo domani Io non lo posso sapere E mi auguro Che possa cambiare Quanto prima Sta situazione Ma siccome io conosco La piazza Siccome conosco Profili di questo tipo Che dal punto di vista Psicologico Potrebbero risentirne Io già mi sono fatto Un film Che spero Non si verifichi Che spero Non si avveri Non sono affatto deluso Iuric In conferenza stampa Non sono affatto deluso Siamo delusi Del risultato Ma lui non è deluso È contentissimo Anzi È un'ottima sconfitta Solo per 1-0 Contro una squadra Di rincoglioniti Negli ultimi metri Abbiamo messo qualità Ma non è stata sufficiente Analizzando con grande lucidità Qualcosa ci è mancato Con grande lucidità Qualcosa ci è mancato in attacco Ma le cose positive Sono state tante Questo È l'atteggiamento Mi dispiace se lo dico Ma devo dire Quello che penso Di un allenatore Che è abituato A giocare In altre piazze In altri contesti Che non c'hanno Dove non gli si chiede Un cazzo Un cazzo Dove gli si chiede Di portacasa Il risultatino Il compitino Senza Senza troppe pretese Insomma Questo io sto leggendo Ragazzi Io Se non c'hai delusione Anziché prenderti Le tue responsabilità Di fronte a una sconfitta Così vergognosa Contro una squadra Inguardabile Ma io non voglio Guarda Dove sei stato più Inguardabile Te posso dire Come la penso io Dopo tutto il casino Che è successo Per me Juric Mi è completamente Indifferente Per me Dice una cosa O dice il suo esatto opposto Ma pure per me Non mi sfiora neanche Cioè per me Juric non è nessuno Sia ben chiaro È l'allenatore della Roma Ok ma fino a quando durerà Poi arrivederci Avanti nel prossimo Però Se proprio devo analizzare Quello che dice È ovvio che non posso Essere contento Di quello che dice Ma Discapito Cioè no Anzi voglio spezzare Una piccola lancia A favore suo Che per quanto sia È arrivato in un contesto Da fuori di testa L'ha accettato lui L'ha accettato lui Ho capito L'ha accettato Ma non è perché l'ha accettato Allora deve andare bene per forza Era un bordo in cazzo Arriva C'è stato un ambiente di merda Hanno fatto tutto quel bordello Non c'è una società Che comanda Non gestisce un cazzo Non so Vuole fare un cazzo Arriva lui E se via la merda Di tutti quanti È questo che voglio spezzare In favore di Juric Ha fatto quattro partite Giustamente ancora Non ci staccavi in cazzo In mezzo a tutta sta merda Ma deve fare anche logico E forse Le dichiarazioni Che fa post partita Sono anche la conseguenza Di tutto sto schifo Che c'è sta intorno Te voglio dire niente Però se è l'allenatore Se potrebbe prendere Le sue responsabilità E dire Abbiamo fatto una prestazione brutta Ma che responsabilità Se devi piare Ma che se devi piare Questo Ancora non ha capito Do cazzo sta Ma che te devi di Sule non si nasconde Chiede la palla In questo momento Non è determinante Come lui vorrebbe Vediamogli tempo Cerchiamo di farlo crescere Altrimenti non va bene Gli piacciono tante cose di lui Come il fatto Che non si nasconde È stato ribadito Sto Il concetto Con la conferenza Sto concetto Aspetta Il campo sintetico Non vogliamo scuse No Infatti abbiamo giocato benissimo Sull'Elfsborg Sapevo che loro Erano aggressivi E che sarebbero stati aggressivi In contropiede Ma già devo analizzare i miei Non ho tempo di analizzare Gli altri Se non analizzi gli altri Le partite Ah no Lui intende successivamente No no Lui intende successivamente Giustamente Vabbè Quello Non ce lo posso manco da torto Perché secondo me Da analizzare i nostri Ce ne sta tanto E come Per cui concentramoci Sulle Sulle cagate Che abbiamo fatto Noi in campo Batti becco in diretta Dopo la domanda Dell'inviato Non ho visto niente Di quello che dici tu Giustamente Se devi far riconoscere Cosa è successo In diretta tv Dopo la sconfitta Della Roma Non è stata così Pessima Tanto da Batti beccare In diretta tv Con l'inviato Di Sky Sport Paolo Assogna Paolo Aspetta Aspetta Risultato negativo Prestazione negativa Abbiamo visto Una squadra in confusione Soprattutto Nel primo tempo Si è rischiato Un po' troppo Con queste scelte Di formazione No Si è rischiato Troppo Con queste scelte Di formazione Chiede Paola Assogna Non sono d'accordo Con la tua visione Della partita Ci sono tante cose positive Io ho visto Una partita Completamente diversa Da te C'è da migliorare Sulla ripartenza Ma nella gestione Della palla Ho visto tante cose buone Se tu dici Che siamo andati In confusione Abbiamo fatto Una partita negativa Ti dico Che non sono assolutamente D'accordo con te Mo perché Sta alla Roma Perché Forse è stato a Torino Ve invito ad andare A riprendere Vecchie conferenze stampa I vaffanculo Si spregavano Esatto E le brutte parole Nei confronti De Paola Assogna Si sarebbero spregate Qua si deve dare Una regolata Perché la piazza Non ti permette Di alzare troppo i toni Di alzare troppo le arie Io Ragazzi E non pensate Che Non chiedo la testa De Iuric Non me ne può fregare De meno Perché tanto Io già sto due passi avanti Mi arriva un altro E' uguale E' la stessa cosa Fosse rimasto De Rossi Ma comincio a pensare Che con De Rossi Sarebbe stata La stessa cosa Ragazzi Siamo stati capaci Di cacciare a Murillo Che ti ha fatto vincere Una conferenza E ti ha portato Un finale Di una coppa Di un arbitro Te l'hai inculata In quel momento In cui è stato esondato Murillo Era necessario Era necessario Purtroppo Era necessario Proprio da lì Ho cominciato Mi si sono aperti gli occhi Mi sono tolto I paraocchi Le fette dei prosciutto Quello che hai Io mi sono tolto tutto Non conta Chi ci sta sulla panchina Tanto è sempre Tutto quello che gira intorno L'allenatore è l'ultima È l'ultima E poi può fare dichiarazioni Che posso essere d'accordo Ma poi giustamente Ce la prendi Perché se dice Le cose che non stanno nel cielo È in terra Che hai detto tu Iuri c'è me è differente Ecco Poi rimane pure Fino alla fine D'assaggio Poi rimane i prossimi 5 anni Tanto non cambierà Se non cambia Il contesto Il contorno Se non cambia Quello ragazzi Staremo bene Di essere Che parla dopo 120 giorni Perché non c'è il diritto De esprime Se deve aspettare L'ok della società Un direttore sportivo Perché questo è quello Che si dice Non può parlare Parla 120 giorni dopo E dice solo cose ovvie Perché non ha detto niente Che Cioè Dichiarazioni Di Ghisolfi Proprio che spostano La faceva o non la faceva Era la stessa cosa E quell'altra che se ne va È così E quella È caccia dei rossi Sarà stata lei Non sarà stata lei I presidenti che non ce stanno Non ce stanno mai Non ce sa mai Che cazzo stanno Quello che fanno Sta apposto così Questi sono i risultati Ragazzi Questi sono i risultati Di una squadra Che vive nell'anarchia pura E più totale E se poi c'è anarchia E se poi Come si dice Quando il gatto Non ce sta I topi ballano I topi continuano a ballare E più ballano E più fai schifo Sì ma fatto sta Che poi alla fine Nessuno si prende Le responsabilità Di quello che succede Perché poi L'unica cosa che conta Per i tifosi Sono i risultati I risultati Sono sempre di merda Nessuno Continua a prendersi Le responsabilità Che dovrebbero E quindi Continueremo a fare Questo circolo Vistioso Per tutta la vita A rivederci E grazie Che ci rimette Siamo sempre noi Fori stronzi Che ancora vediamo retta Che ancora seguimo Sempre con la stessa passione Sempre con le stesse Incazzature Da 40 anni A sta parte Orologio Non è un orologio Una band Me la sono comprata Per tenere sotto controllo Soprattutto durante le partite Della Roma I battiti cardiaci Perché ultimamente Non sto benissimo Non sto in formissima Quindi Mi controllo Per vedere Se mi schioppa la pompa Se continua così In altre due tre partite Gabbo Me ne vuoi giocate Arrivederci Me lo giocate Perché questo è Dieci anni De ste condizioni Dieci anni su YouTube De ste condizioni Ma io Da mo Da mo Che reggo Da mo Che sopporto Ma lo stupido So io E qua Lo a me Lo stupido So io Lo stupido Lo stupido So io Che sto a daretta Io mi c'è un cazzo Lì per lì Ma dopo mezz'ora Mi passa Magari non ti passa Dopo mezz'ora No giorno dopo No giorno dopo A lui Giorno dopo a lui Giorno dopo a lui Giorno dopo a lui Giorno dopo a me Come se fosse successo Io devo imparare A fare Io non ci riesco Ragazzi Non ci riesco Io devo fare Come fai tu Io una vita ce l'ho Ragazzi Non mi posso Avvelenare a Roma Cioè io me ci avvelenò Lì per lì Ma a me dal giorno dopo Mi passa Cioè ma non scherziamo Cioè E tu c'hai pure ragione Ma io ho trasformato Una passione in un lavoro Quindi E poi se non ci voglio pensare Ce penso uguale Ok ma come si dice Si deve scindere La vita lavorativa Dalla vita privata Non ci riesco E ritorniamo al discorso Stupido tu Stupido io Ma lo ammetto L'ho sempre detto Quindi non Conosco i miei limiti Assolutamente Comunque E questo è qua No Tornando Che vuoi dire No no Tornando al discorso principale Ma abbiamo un attimo Per me non c'è nient'altro da dire No no Infatti ma non c'è altro da aggiungere Perché ci siamo espressi anche abbastanza Vai in caduta libera Come è successo Ragazzi La ripresa Tanto mo Già come ho accennato Nel post partita Diciamo Mo dalla prossima Con Monza Fai risuscita ai morti Perché mo si ricomincia La giostra È il Monza ultimo Te batte Lo si riprendono Te passa a vantaggio Fai schifo Perché poi Se accumula La stanchezza La partita Sarà tale quale A Venezia E Elfsborg Sarà identica Sarà una terza fotocopia Col Monza Che ti surclassa In qualche modo Farà il risultato E tu vai alla sosta Con le paranoie Oddio Ma che è da cacciare Non è da cacciare E poi Stanno arrivare i fritti Chi da Roma Mo lo cacciano Preparatevi Mo succede qualcosa Si 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 ricomincia E la stagione va avanti così Il firma va avanti Non vi è stata preoccupata Che mo Cioè C'è il terzo tempo E si trascinamo Con i comiti per terra Senza usare i cambi Il terzo tempo arriva Così Ecco Questa è la stagione Della Roma Riassunto Della vita Di un tifoso romanista Il problema è che Non stavamo alla trentesima giornata De campionato E il semifinale D'Europa League Stavamo alla sesta De campionato Alla vigilia della settima E a due partite D'Europa League Con punto Mi sono rotto il cazzo Con punto Io pure mi sono rotto Li coglioni E basta D'Europa League